Nel suo paese c'è la guerra? Sì, sì, sì. È la guerra del mio paese. Ma non lo dono per me. No, non lo dono da morte. Per un immigrato che viene da un paese in guerra, ce ne sono tanti altri che invece vengono da zone dove la guerra non c'è. Due anni? Due anni e un mese. Al cara di Mineo, aspettare più di due anni per ottenere lo status di rifugiato non è un'eccezione. La media di attesa è di un anno e sono molti gli immigrati che, dopo il parere negativo della Commissione, fanno ricorso. Così possono trascorrere altro tempo nel nostro paese. Posso chiedere da quale paese viene? Durante questo lungo periodo nel centro, gli immigrati trovano lavoro in nero nei campi o intrecciano piccoli traffici con chi condivide il loro stesso destino. Senegal, da quanto tempo è qui? Da un anno? Nel centro ci sono attualmente 3.080 immigrati. Quanti sono davvero profughi? Quanti davvero sono scappati da una guerra? Mamadou Camarà, livoriano, presunto assassino dei coniugi di paleagonia, era a cara di Mineo da appena tre mesi. Chissà quanto ancora ci sarebbe rimasto. Di certo c'è che non scappava da nessuna guerra, perché in Costa d'Avorio la guerra non c'è.